Primo giorno. È ora di alzarsi. Cos'è questo posto? Sai dirmi il tuo nome? Non ricordo niente. Chi ci ha messo qui? Non lo sappiamo. Che c'è lì fuori? Il labirinto. Ogni mattina quando quelle porte si aprono, i corridori cercano una via d'uscita. Nessuno è mai sopravvissuto a una notte nel labirinto. Che gli succede? No! No! Noi non siamo di qui. È ora di scoprire contro cosa stiamo lottando. Tutto è cominciato a cambiare Quando sei comparso tu È una ragazza Thomas Perché noi siamo diversi? E se fossimo qui per un motivo? Tu non sei come gli altri Sei curioso Ma se vuoi restare qui Devo essere certo Che seguirai le regole Che seguirai le regole